La grandezza, così scrisse, non risiede nell'essere forti. Ma nel giusto uso della forza. È il più grande colui la cui grandezza trascina il maggior numero di cuori grazie all'attrazione del proprio. Senza ulteriori indugi, quest'anno sono veramente orgoglioso di insegnare della medaglia Henry Ward Beecher lo studente la cui forza silenziosa ha trascinato la maggior parte dei cuori. Perciò prego August Polman di venire qua su a ritirare questo premio. Grazie. 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 Sei il migliore hobby. Avevo solo finito la prima media, come tutti gli altri. Congratulazioni. Sono per te. Ma in fondo forse è proprio questo il punto. Forse la verità è che davvero non sono normale. Forse se sapessimo quello che pensano gli altri, capiremmo che nessuno è normale e che tutti meritiamo una standing ovation almeno una volta nella vita. I miei amici. I miei insegnanti. Mia sorella per essermi stata sempre accanto. Mio padre per averci fatto sempre ridere. E mia madre la merita più di tutti per non essersi mai arresa in niente, soprattutto con me. È come l'ultimo precetto che ci ha dato il signor Brown. Siate gentili, perché tutti combattono una battaglia dura. E se vuoi davvero vedere come sono le persone, non devi fare altro che... guardare. Grazie. 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 Grazie per la visione